Il Brignisi crolla a Nardò che batte 4-0 la formazione bianca-azzurra e conquista il primato in classifica insieme al Casarano. Approccia bene la formazione brignisina nei primi minuti di gioco, che trovano occasione al diciottesimo minuto con Numbuglia. Dalla distanza il tiro termina di poco, alto sulla traversa, passa un minuto e ci prova anche Calemme. Bravo Milli a deviare il pallone. Col passare però dei minuti è il Nardò a riprendere campo al ventiduesimo, inserimento di Tordos che trova la deviazione di la Cirignola. Insiste ancora la formazione di casa al quarantaseesimo, in primo recupero passa il pallone e sotto misura è ancora Tordos a provare il tiro, calciando però sul fondo nella ripresa tutto Nardò. Dopo soli sette minuti, inserimento di potenza che supera la Cirignola, il tiro è salvato da Sicignano, prima che termini in rete. In quattro minuti poi il Nardò chiude l'incontro al diciannovesimo. È bellissima l'azione che passa dai piedi di potenza e termina su Rimoli che trova il gol dell'1-0. Passano poco più di 60 secondi e c'è l'inserimento ancora una volta di Tordos che trova il rigore che poi Caputo realizza per il raddoppio. Ventiduesimo è potenza a mettere la sua firma alla gara portando sul 3-0 e chiudendo virtualmente l'incontro. Che trova però anche la quarta marcatura al trentaseiesimo con Gallo che chiude il punteggio sul 4-0 definitivo per il Brindisi. Adesso sono ore di riflessioni per il Nardò e festa grande.